Io penso che questo di Napoli è più un fine strada che un inizio di strada. La mia professione è cambiata tantissimo da quando io ho studiato. L'altro giorno parlavo con il mio ex socio Luis Clotet, che è il migliore amico mio ancora, che la professione dall'epoca, diciamo, da Brunelleschi fino alla nostra gioventù è cambiata meno che è della nostra gioventù adesso, perché noi non facevamo un lavoro tanto diverso di Brunelleschi. Disegnavamo, andavamo nell'opera, parlavamo con operai e oggi si parla con gli avvocati, si fa la pubblicità e tutta un'altra professione.